svegliati che bello ok quello era il nostro amico ciao rilassati sono io pedro il tuo amico banana ok ti hanno fatto svenire quante quante dita ho non hai dita ok abbiamo una barra di vite ai colpi sono infiniti ottimo cazzo la colonna sonora già è bellissima quella è Mitch the Butcher ok che ha praticamente la sua macelleria e una copertura per lo smercio di armi la carne è principalmente di gatti piccioni e qualsiasi persona a loro non piaccia ottimo carne di piccione secondo me ha quel non so che buono ma è vecchio quel tizio non interrompermi mentre lavoro minchia che doppio mentolo c'ha quello bellissimo anzi quasi un triplo mento è stata che è successo qui è dove vado quando non mi puoi vedere ok sì allora il personaggio ha un amico banana che a quanto pare anche una banana magica quindi deve essersi fumato qualcosa di molto buono fatti dimostrare qualcosa ok cosa la cos'è sta merdata lo vedi questo è quando ti focalizzi quindi quando ti concentri ora provaci ok è come se ah che figata quindi praticamente schiaccio il tasto salto e lui fa automaticamente questa questa cosa ora fai un full flip quindi un giro un salto mortale in slow motion mentre spari a questo vaso senza prezzo di mia nonna ok l'hai chiesto tu cazzo sono il mago delle capriole cazzo ma se questo è il primo livello mi sa che non lo finiremo manco in un anno mystery meat ecco quello è il ciccione che dobbiamo ammazzare ok il mitch possiede questo posto ah ok ecco perché erano tutti anziani perché è come se fosse una casa di riposo per tutti i gangster senza una pensione insomma bravo non possono dire hop la prima di attaccare ecco perché tu immagini mentre stai giusto alla dentiera entro un ragazzo e ti spara eh è dura la vita così ok grandi vecchietti fatevi ammazzare bravi che bello ammazzare i vecchietti ok twitch stiamo parlando dei vecchietti nel gioco ovviamente non tutti i vecchietti sono belli da uccidere alcuni urlano piangono tu hai provato spivo fa ammazzare qualche vecchietto in gioco ma è bello pure quando schifo si mette a ballare così come se niente fosse ok io mi sve tutti ci svegliamo la mattina con la speranza di poter ammazzare qualche vecchio gangster qua se mi fa guida bellissimo ok ah lontanati avvicinati dalla telecamera ok oh cazzo non so manco posso fare pure le penne ma pure le capriole compa ma che cazzo dici ma è bellissimo vedi faccio i capriole e ammazzo i nemici però mi fanno male spintarmi pure loro fanno i salti mortali non sto capendo niente non riesco non so a chi sto ammazzando le uccide a queste in macchina queste infame mi stanno facendo malissimo però è stupendo ma io devo per forza superarli ah ok il gioco che decide se devo superarlo oppure no io mi devo soltanto attaccare al cazzo ammazza quello ottimo eh sto fregato stavolta non va bellissimo eccolo il ciccione oh che mi stanno lanciando le mine bella bellissimo vecchio ciccione ti ammazzo mi sono scordata di sparare le mine bello l'ho ucciso mi sudano le mani mi sudano le mani in una maniera pazzesca